Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi, mercoledì 4 marzo 2020, in diretta dagli studi di Fano TV c'è la rassegna con i giornali pronti sul nostro touchscreen per essere letti, soprattutto per quanto riguarda i titoli, diamo tra poco le notizie più importanti, selezionate la nostra redazione, intanto il buongiorno comincia anche con il santo del giorno, il santo di oggi è San Casimiro di Polonia e Lituania, il sole è sorto alle 6.36, tramonterà oggi alle 18.02, il tempo sta peggiorando, soprattutto nella provincia di Pesaro Urbino, per chi ci segue in diretta tra poco arriverà ancora pioggia, infatti precipitazioni sparse sono previste anche a carattere di rovescio, più abbondanti nel settore centro-settentrionale, dunque Ancone-Pesaro, Pesaro Urbino, avremo anche un limite delle nevicate attorno ai 1.000-1.100 metri, le temperature sono in diminuzione, abbiamo anche un po' di venti, il mare mosso, ma ripeto, per chi ci segue in diretta tra poco, di nuovo la pioggia, mentre per domani giovedì 5 marzo la protezione civile delle Marche per quanto riguarda il bollettino prevede brevi locali fenomeni di pioggia, soprattutto dalla tarda serata, soprattutto nei settori montani, le temperature sono in diminuzione, quelle della notte aumenteranno le temperature massime, attenzione alle probabili gelate domani notte oppure al primo mattino, specie nei fondovalle, mentre la giornata di venerdì torna ancora la pioggia, con precipitazioni sparse nelle zone interne, locali altrove, nevicate sulle cime più alte dei Sibillini. Ancora lievi condizioni di stabilità nella giornata di sabato e mentre per quella di domenica ci sarà tempo stabile. C'è la seconda vittima purtroppo nelle Marche da coronavirus all'ospedale di Pesero, ieri mattina è morto un sessantenne, aveva già problemi, era cardiopatico, era in attesa di un trapianto, questa la notizia più importante. Poi però c'è anche quella che è arrivata nel tardo pomeriggio con la firma di un altro provvedimento, questa volta da parte del governatore delle Marche, che si è sentito con il ministro Speranza, ieri soltanto nella giornata, ieri due volte con il ministro della Salute, e ha deciso di firmare una nuova ordinanza che vieta manifestazioni pubbliche, sospende le manifestazioni pubbliche, chiude le scuole fino al prossimo 8 di marzo. Il ministro Speranza che dice, ha detto, non la firmo questa ordinanza, però la condivido. Andiamo a vedere i titoli, dunque, delle notizie più importanti di oggi, il Carlino, virus, ceriscioli, blinda le Marche, il governatore impone la sua linea sulla regione, scuole, musei, manifestazioni, stop fino a domenica. Poi a centro pagina la foto della seconda vittima, eccolo qua, Tullio Marchesi, 61 anni, ex barista, era malato. Poi il contagio, dopo l'88enne di Fano arriva anche il primo morto in città, a Pesaro, aveva da tempo problemi di cuore, nei giorni scorsi gli era stato diagnosticato il Covid-19, ovvero coronavirus. I morti sono diventati due, titola invece il Corriere Adriatico, un altro decesso a Pesaro, addio ad un uomo di 61 anni, cardiopatico, salgono i contagi, siamo arrivati a 83, il governatore blinda tutta la regione fino a domenica. Ceriscioli dice questa volta, Speranza, il ministro ha capito, due telefonate nell'arco di 10 ore, Ceriscioli strappa l'ok del ministro della Salute e Speranza, ma non la firma, tanto basta perché comunque l'ordinanza di risospensione sia condivisa, senza questa volta polveroni. Andiamo a vedere le pagine interne, dunque avanzano i contagi, questa è la pagina 2 del Corriere di oggi. Le Marche costrette a richiudere tutto, secondo decesso a Pesaro, primo positivo a Macerata, si allarga il Covid-19, Ceriscioli firma stavolta con l'assenso del governo, la regione diventa dunque zona gialla. Ora i divieti sono in tutte le Marche, a Roma passa la linea Ceriscioli sulla gestione dell'emergenza, passa dunque la linea del governatore, la sua si è rivelata la strategia migliore nella limitazione del contagio, tanto che ieri il ministero ha accettato di dare il via libera a nuove misure di contenimento che vietano anche alle altre quattro province marchigiane attività didattiche e manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura fino alla mezzanotte dell'8 di marzo. Dopo il braccio di ferro anche Conte non si oppone all'allargamento delle misure e va a finire che alla fine aveva regione Ceriscioli, ma come succede sempre in questi casi, come dire, i conti si fanno alla fine. Speranza stavolta ha capito, mi sembra passato un secolo, racconta Luca Ceriscioli. C'è questo articolo molto interessante che ha scritto il giornale questa mattina, dove racconta un po' i vari retroscena, a partire dalla prima telefonata, alle 7.40, ve lo immaginate, ce lo immaginiamo, il governatore Luca Ceriscioli, sul treno che da Pesaro lo porta ad Ancona. Alle 7.40 c'è questo primo contatto nel quale Ceriscioli parla con il ministro della Salute e Speranza e gli dice, guardando il finestrino, dal finestrino le spiagge sabbiose dei litorali del nord marchigiano, gli dice che le cose qua non stanno andando bene. Poi c'è la seconda telefonata, alle 17.00, invece questa volta Ceriscioli scruta l'orizzonte dal settimo piano di Palazzo Raffaello e capisce insomma che gli dice, come stanno andando le cose, dall'altra parte del telefono Speranza che dice va bene, fate l'ordinanza, ne condivido i contenuti, ma io non la firmerò. E poi in serata si saprà che i contatti da coronavirus da 61 saliranno a 83. E dunque questa è un po' la cronaca e dentro a tutto questo c'è una sorta di rivincita morale del Presidente Governatore Ceriscioli. L'altra pagina del Corriere. C'è un secondo decesso per il virus. La vittima era in attese di trapianto. Il pesarese Tullio Marchesi è morto al San Salvatore. A Pesaro, ricoverato da sabato, soffriva di una cardiopatia. Emergenza, letti e personale, realizzata altra rianimazione a Santa Croce e ci sono 22 contagi in più. Nel dettaglio, se andate sui nostri social e anche sul nostro portale, c'è proprio la cartina geografica. Nel dettaglio comunque 26 sono i contagiati, i positivi a Pesaro, 10 a Fano, 5 a Vallefoglia, 4 a Durbino, 2 a Monte Calvo in Foglia, 2 a Cartoceto, così come a Gabicce, 1 a Colli al Metauro, 1 a Tavuglia, poi a Sasso Corvaro e 1 anche a Sasso Feltrio. Nuovi contagi, ospedali in Tilte e un'altra vittima, il resto del Cardino, si chiamava Tullio Marchesi. Aveva 61 anni e gestiva un bar. Era un cardiopatico in attese di trapianto. Intanto i positivi al test salgono a 55 da due giorni, dice Ceriscioli. C'è un assalto al pronto soccorso, ma ricordiamo, e lo ricorda anche Ceriscioli, che invece si dovrebbe chiamare il medico, si dovrebbe chiamare il dottore e non andare al pronto soccorso. Il problema è individuare i casi di normale influenza, dice il medico di base Cecconi. Non dimentichiamo che non è passata. Il dottor Massimo Cecconi è un medico di base di Fano, così come la sua assistente, che indossa la mascherina, unico schermo che può proteggerlo da un eventuale contagio. E lui racconta, appunto, che ancora oggi si verifica uno strascido importante della normale influenza e che noi, medici di base, cerchiamo di distinguere dalla presenza del coronavirus in base alle direttive ministeriali. Cerchiamo, cioè, di sapere se il soggetto interessato ha compiuto un viaggio in Cina oppure proviene dalle zone rosse del Nord Italia, ma recentemente purtroppo i rischi hanno contagiato anche il nostro territorio. Resta esagerata, il pronto soccorso invece rischia il collasso. Ceriscioli ai pesaresi dice rispettate le regole, questo è importantissimo, sulla situazione di Marche Nord è intervenuto direttamente Ceriscioli. Sono due giorni che abbiamo il pronto soccorso di Marche Nord preso d'assalto. Questa è l'amara considerazione del governatore, che prende atto di come finora si siano rivelate inutili le indicazioni date ai cittadini relativamente ai comportamenti da tenere in caso di presunti sintomi di coronavirus. Fare attenzione, fare prevenzione è poi dice la cosa migliore. Poi non dimentichiamoci che c'è sempre il numero 1500. Posti di lavoro a rischio, aiutiamo le famiglie, l'appello dei sindacati alla Regione e al Governo. Il pesarese si scopre fragile, poche le bancherelle e scarsi clienti. Ieri mattina al mercato del San Vicenzo, guardate questa fotografia eloquente, desolante, il mercato praticamente vuoto ieri mattina. Questa mattina invece c'è quello di Fano, molti ci scrivono c'è, non c'è, c'è, non c'è. C'è, c'è però, insomma, vedete voi. Febbre e colpe di tosse, la docente si autoisola. A Mondolfo i timori di chi è entrato in contatto con il professore, risultato positivo. Il coronavirus tiene con il fiato sospeso anche i docenti dell'Istituto Comprensivo Fermi di Mondolfo, all'indomani della scoperta che un docente di Fano che insegna a Monteporzo è stato trovato positivo al Covid-19 e per di più è anche un soggetto asintomatico, quindi non ha febbre, non ha niente. Nella giornata di lunedì un insegnante della scuola primaria Moretti di Mondolfo ha accusato dei sintomi influenzali invece con febbre e tosse ricorrente. Poi c'è un'altra persona che si è messa in auto isolamento, è il sindaco di Monte Granaro, Ediana Mancini. Mancini sciocca e paura, mio padre dice contagiato, ora sono in isolamento, sono preoccupata per lui, spero vada tutto bene. L'uomo è ricoverato a Torrette dopo un incidente domestico del mese scorso. Rianimazione Icaro e Icaro, quindi sia reparto di rianimazione sia l'eliambulanza, quindi per l'emergenza, soffre per l'infezione. In quarantena, infatti, sono sette anestesisti e pure l'equipaggio dell'eliambulanza regionale. Insomma, un reparto dedicato ai pazienti con il virus sono sospesi i congedi a Torrette. La situazione degli operatori sanitari, lo abbiamo ricordato anche ieri nel telegiornale, è una situazione difficile, sono in prima linea e di conseguenza sono i primi ad essere contagiati, soprattutto se non vengono rispettate poi alcune regole. Colpo di grazia al San Decenzio, i commercianti già eravamo in difficoltà, dicono ora con questo allarmismo va peggio, eppure qui si può comprare all'aperto, ma questo non vuol dire che non ci sia la possibilità di contagio. Certo, bisogna tenere i limiti stabiliti, un metro almeno, evitare di stringersi le mani, di abbracciarsi, di baciarsi come fosse Natale o Pasqua. Ecco, bisogna essere un po' antipatici forse, può sembrare qualcosa di antipatico, asociale, però è un metodo per ora buono, quello di, insomma, starsene un po' sulle sue ed evitare contatti, di stare lì attaccati o a toccarsi, eccetera. Meglio uscire piuttosto che stare comunque chiusi in casa, dicono i clienti, aiuta a stare meglio, questo può essere certamente vero. La metà degli hotel, dice Fabrizio Oliva, dell'Associazione Albergatore di Pesaro, sono chiusi, molti dipendenti sono a casa, dei 12 hotel, alberghi, invernali, ne sono rimasti solamente 6 funzionanti, due lavorano con le convenzioni, sono coinvolti in tutto circa 70 lavoratori. C'è preoccupazione sia da parte anche della Confartigianato che della CNA, perché parlano di situazione di stallo e Moreno Bordoni, segretario della CNA provinciale, dice che molte aziende sono in ginocchio perché anche una settimana di stallo mette in difficoltà. Ora, questo dovrebbe farci capire esattamente, questa situazione qua, come siamo messi, come stiamo in Italia. Noi che spesso fino adesso abbiamo fatto finta di stare comunque bene, stiamo malissimo perché è bastata una settimana, dieci giorni di fermo per mettere in ginocchio interi settori. Parliamo di dieci giorni di fermo, non di più, ma anche meno di dieci giorni. Quindi questo ci fa capire esattamente come eravamo dei finti felici, dei finti o apparentemente tranquilli. Siamo una paese in ginocchio, bastano dieci giorni di stop e guardate che cosa è successo, cosa sta succedendo. Fra l'altro, dice ancora Bordoni, ci sono anche problemi di altro tipo perché camionisti che arrivano dall'estero non vogliono venire a ritirare la merce che resta in magazzino. E quindi questo vuol dire che ci sono problemi poi anche con i pagamenti e la ciliegina sulla torta di questa situazione e anche il fatto che si sta generando panico dentro le fabbriche, soprattutto nei confronti dei manager che tornano in azienda. Quelli che vanno all'estero a fare contratti, eccetera, poi tornano. In alcuni casi sono risultati positivi al tampone. Speriamo che questa storia, dice Bordoni, finisca presto perché siamo tutti in ginocchio. Ancora dal resto del carlino, cinema, teatri blindati, danni incalcolabili. Gilberto Santini dell'AMAT dice sono stati sospesi 56 spettacoli in tutte le marche, mentre Giometti, che gestisce gli omonimi cinema, insomma gli usi cinema, dice è in ginocchio tutto il settore, le sale e i distributori. Sono saltati anche gli affitti per i corsi d'inglese, le scuole di recitazione, insomma un disastro. Alla Confesercenti, alla IMAB, ci sono dei casi positivi. Si tratta di un consulente, di un tecnico del mobilificio, una decina di persone in quarantena, falso allarme poi alla Diba, dove si vendono le automobili. Tra quelli che si sono messi in quarantena volontaria c'è anche il direttore regionale di Confesercenti, Roberto Borgiani, che vedete nella fotografia, è un urbinate lui, ma ha la sede di lavoro tra Pesore e Ancona. Una delle figure storiche praticamente delle associazioni. Borgiani si è isolato perché un consulente esterno di Confesercenti, un commercialista che cura i fidi alle aziende, è risultato positivo al tampone ed ora si trova ricoverato all'ospedale di Pesaro. E dice, siccome era il mio vicino di stanza, mi sono messo in auto isolamento, visto che lui comunque è adesso ricoverato a Pesaro, a San Salvatore. Poi, l'allarme dicevamo che nei giorni scorsi è scattato anche nella concessionaria di Autodiba, la più grande della città. Una dipendente che ha avuto il padre che rientrava dalla Cina ha avvisato i vertici della concessionaria, per cui anche in questo caso è scattato l'allarme. Poi c'è Scavolini, Scavolini, il cuciniere più famoso d'Italia, che è preoccupato se la normalizzazione dovesse arrivare fra oltre un mese. E Scavolini dice, problemi ce ne saranno appunto se i tempi dovessero allungarsi. Fino ad oggi, dice, noi non abbiamo risentito più di tanto, stiamo lavorando via telefono oppure attraverso le e-mail. La nostra sede di Shanghai, dove c'erano due dipendenti, li abbiamo fatti rientrare e quindi, insomma, per noi più o meno è tutto come prima, tranne il fatto che parliamo di più al telefono, scriviamo le e-mail. Il virus invece, e qui c'è un'interrogazione di Andrea Biancani, consigliere regionale del PD, il virus sta paralizzando tutto, chiedo alla regione di muoversi, turismo e altre strutture dedicate a tempo libero. Al tempo libero sono sempre più a terra, quindi occorre assolutamente intervenire. E poi c'è il fronte dei medici, come dicevamo con Fabrizio Valeri, che abbiamo intervistato anche ieri nel nostro telegiornale, il segretario regionale dello SNAMI, il sindacato nazionale dei medici italiani, che chiede le mascherine, chiede il minimo sindacale, insomma qualcosa per proteggersi, perché altrimenti, e qui parla dicendo dicendo chiudiamo tutti gli ambulatori, e quindi poi voglio vedere come andranno le cose. Il segretario regionale dice chiedo protezione per i camici bianchi, quindi per i medici, che sono, lo ricordiamo in prima linea, e che vanno ringraziati giorno e notte. Aggredito invece, e qui chiudiamo la pagina del coronavirus, per dare un'occhiata velocemente alle altre notizie, la cronaca con quest'uomo, questo 38enne che ha preso a schiaffi il dirigente dell'ospedale del pronto soccorso di Pesaro, Stefano Loffreda, nell'ottobre scorso, era il 26 di ottobre, Loffreda che poi ha avuto, insomma, tre giorni di prognosi, questo 38enne lo prese a schiaffi, lo aggredì al pronto soccorso, patteggia adesso, e dunque esce dal carcere. È un 38enne originario di Brescia, arrestato perché a fine ottobre si è scagliato contro il perimano del San Salvatore, e anche un suo collega. Avrebbe dovuto aspettare il suo turno in sala d'attesa, ma invece si alzò e iniziò a minacciare il personale. Dopo quell'episodio, tra l'altro, la direzione ospedaliera ha intensificato i presidi di urgenza, di sicurezza, garantendo al personale un filtro maggiore rispetto a possibili episodi di intemperanza, e ce ne sono. Andiamo nella pagina di Fano del Corriere Adriatico. La cronaca ci porta a parlare di questa operazione della compagnia Carabinieri di Fano, guidata dal capitano Maximiliano Papale, che ha presentato ieri i risultati di un'indagine importante. Sono state arrestate quattro persone, un fanese, un forsempronese, che è all'interno di un bar, poi due stranieri all'interno di un altro locale, che, insomma, tra un caffè e l'altro spacciavano cocaina e marijuana. Un'operazione della quale abbiamo parlato anche nel telegiornale. Uno dei pusher che è stato preso, beccato perché l'amico aveva il naso sporco di polvere e una banconota arrotolata in tasca. Ne parla questa mattina in una pagina intera il Corriere Adriatico. Poi, da Monte Cerignone, invece, questa è la fotografia con questa nuvola di polvere, la spettacolare esplosione del ponte Amelia che è stato fatto esplodere. Dunque, la nuova struttura arriverà adesso entro Pasqua, i tecnici sono già al lavoro, il cantiere durerà circa un mese. Un'esplosione spettacolare che è stata alimentata da 250 candelotti di dinamite. Poi sotto, invece, l'imputato di omicidio a processo per molestie, troppe telefonate verso una ragazza, il legale dice non c'entra. È imputato di omicidio in concorso per il delitto di Sesto Grilli, si oppone ad un decreto penale rispetto ad una presunta molestia nei confronti di una ragazza. L'udienza in tribunale ieri per un 28enne difeso dall'avvocato Vando Scheggia. E poi, da Pesaro, basta con le transenne al cimitero, il comune provvederà al ripristino, Padiglione dei Fiori, l'assessore Belloni incontra i tecnici, bypassando il contenzioso con la ditta. La variante, e torniamo a Fano, per installare le luci a LED in Via Roma a partire dal Pincio, ci sono a disposizione 100 mila euro, la modifica di progetto dovrà essere sottoposta alla Regione. E poi c'è il calendario dei ritiri del centro di raccolta mobile, qui parliamo di differenziata, si cambia, c'è un nuovo calendario e un nuovo itinerario per questo centro di raccolta mobile gestito da Aset. e poi sotto si parla invece di sposalizi, di matrimoni, è romantico sposarsi tra le rovine della chiesa, più matrimoni civili, ecco i posti a disposizione e anche i costi da affrontare. La chiesa in questione, quella con le rovine, è l'ex chiesa di San Francesco, vicino al comune, alla sede del comune. Dalla pagina della Valle Metauro invece uno slogan nuovo coniato da Filippo Carboni del Center Shopping di Fossombrone, Fossombrone che si inventa questo nuovo slogan Insieme Siamo Forti, che starebbe un po' come Insieme Siamo Forti, uno slogan che serve per rilanciare il centro commerciale all'aperto, il centro commerciale naturale di Fossombrone. Andiamo ancora avanti sulla pagina della Valle del Cesano invece in fiamme 10 rotoballe di fieno salvati 220 tra agnelli e pecore, il fuoco distrugge anche l'auto del proprietario, l'incendio è successo a Ripe di Ferriano. Ancora cronaca dai quotidiani, questa volta il resto del carlino, cliente confuso chiede la dose al carabiniere, a Tavernelli un militare scambiato per il pusher, pusher Kosovaro che aveva appena arrestato, manette per droga anche in un bar di Serrungarina. Nel locale di Calcinelli occultati 50 grammi di coca, preso il pusher con altra droga e con altri soldi. Una sentenza invece al Tribunale di Pesero rapina un ragazzo di 100 euro condannato a 4 anni, l'imputato è un operaio di origini albanesi, con altri due aveva picchiato e minacciato la vittima. Poi a terre roveresche brucia rami secchi vicino all'ovile, rischia di arrostire 220 pecore. Un incendio si è sviluppato in località di Periferiano, le fiamme si sono divampate a causa poi del forte vento. La poggiana di Fano invece del Carlino trovato con la cocaina ancora nelle narici, era il cliente di un pusher, un 48enne di Fano arrestato dai carabinieri in un bar insieme al collega, un 30enne di Fossombrone in casa, di uno, 60 grammi di marijuana, l'altro aveva addosso invece cocaina e contanti. Malamut invece, il Malamut è questo cane qua rinchiuso in due metri, la polizia lo libera, ora cerca casa, si chiama Jack, così si chiama questo cane, ospitato al canile Ragano di Fano per disposizione dell'autorità sanitaria. Poi uno che cena al ristorante fa con la consumazione al bar, però quando arriva il momento di pagare esce a fare il bancomat però poi non si è visto più. Circa 45 euro di buffi come si dice in pizzeria, 100 euro in una pasticceria, altri 170 in un ristorante arriva al mare, insomma dopo il caso di Augusto Boccalini considerato il re delle truffe di Pesaro è stato denunciato e condannato per molte cene non pagate oltre che per i preliminari d'acquisto di due attici mai saldati c'è un nuovo mister scroccone in giro per la provincia di Pesaro Urbino questa volta è tutta questa storia è tutta in salsa fanese quindi commercianti attenzione se vi dicono vado a fare il bancomat voi seguitelo oppure andate con lui Luce bolletta 2000 euro un'altra famiglia si ribella dopo la storia dei coniugi di Cartoceto ai quali è stata cancellata una maxifattura di importo simile un pensionato fanese lancia l'SMS qui vedete nella fotografia i coniugi Lucio e Marisa Battistelli con la bolletta astronomica abbiamo rinunciato alle vacanze dicono passato un Natale senza regali ci hanno tolto anche la serenità la bolletta la bolletta da 1956,10 centesimi quasi 2000 euro non è poco siamo quasi in chiusura anzi questa è l'ultima pagina della segna stampa da Senigallia la fotografia è per Enzio Ezio scusate Micciarelli che annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni a Senigallia devo pagarmi l'ambulanza per le terapie dunque mi candido farò valere i diritti dei disabili lo sfogo di un tetraplegico che scende in campo alle prossime comunali e dice darò voce a chi nessuno ascolta non era l'ultima pagina in realtà ecco facciamo ancora in tempo sì un minuto addio alla maestra che rendeva gentili tifosi il ricordo accorato di un allievo la maestra è Carla Carpenzano nata nel 1926 a Modena poi abitato per lunghi anni a Pesaro la sua passione era il Milan false fatturazioni per il volley tutti assolti ad Urbino Giancarlo Sacchi per anni anima della Rubor Tiboni Urbino finalmente dice si riconosce la nostra onestà economica ed intellettuale la polizia invece dice un Urbinate su 15 risulta possedere un'arma i risultati non senza sorprese dei controlli ritirate oltre 100 tra fucili e pistole questo è un'operazione che stanno facendo in questi giorni poi Pesaro e Monteciccardo sono un unico comune il consiglio regionale ha approvato la legge che stabilisce l'assorbimento del piccolo campanile nel capoluogo a due mesi dal referendum ed è tutto grazie per averci seguito ci vediamo questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a presto a presto Grazie.